Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Oggi siamo un po' strettini Dato che viviamo in un solo blocco Ma è una skyblock veramente interessante Infatti questo blocco che abbiamo sotto i piedi È veramente magico E adesso vi dimostrerò il perché Se voi lo spaccate Oh che paura Viene un po' di paura Però va tutto liscio teoricamente Ho detto adesso ci trolle e ci fa cascare tutti Di nuovo Marco è quello che pinga di meno amici basta Grazie Sta prendendo tutto lui rubateli qualcosa È tutto mio ragazzi Oh No ho perso tutto Ma perché abbiamo una persona del genere Ma Ma Cosa ho fatto Mi avete spinto Mi avete spinto Perché abbiamo una persona del genere Marco sei sponato l'hai buttato giù Ma non ti ho capolato Ragazzi state fermi Mi hai buttato giù Ferma Marci stai fermo un attimo Possiamo per favore allargarti Eh infatti Non ci stiamo Dai Bravo bravo Almeno mettere quattro blocchi o qualcosa del genere Vieni Ecco grazie Un blocco a testa Questa è la dimostrazione di come mettere in crisi i campioncini Un blocco per quattro persone E tutto svanisce Tutta la famiglia Tutto l'amore La clay Sì Sì non che sia proprio bellissima La ricevere adesso Però va bene Legna 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 Ferma inizia Uh cosa è successo Cosa è successo Ci sono dieci fasi Cosa vuol dire Ok Non lo so Continuiamo a bucare Tanto io ho capito Che ormai Questa mappa funziona così Ok Guarda che se spacchiamo in quattro Siamo super veloce Eh Ok ma devi rompere tu o qualcuno Alla fine Non è che possiamo Ferma C'era un po' Fere È solo uno il blocco magico Ok Pensavo lo fossero tutti Scusatemi Ma qualcuno ha un po' di blocchi Allargate ancora Che siamo Sperito Allora io ho due blocchi di terra Uo altra cesta E posso trasformare anche la legna Ok Quindi inizio a fare in legno Me ne frego Beh Allora Ho voluto una crafting Come prima cosa La crafting La faccio io Fere Ok la fai tu Perfetto Ok La metto qua al centro La legna da trasformare Ottimo Perfetto Ma perché la clay Basta Non la vogliamo la clay E allora Abbiate pazienza Trasformo tutto in plank Così abbiamo molto più spazio Perfetto Quanti plank hai? Fai le slab Fai le slab amici Ok Eh fatto 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 le slab Scusa volevo dire slab Ne ho 24 Quindi così almeno Riusciamo ad allargarsi Però se non sponano più blocchi di legna Non possiamo fare utensili Perché Fere ha fatto tutto in slab Ho messo io Ma certo che ne sponano altri Dai Steffo girati Cos'è successo? Abbiamo grossi problemi Di passarci le cose No raga Perché se li butti vanno nel blocco centrale No è solo se stai nel blocco centrale Il blocco centrale è centralissimo È il centro del mondo Ok È il centro del po' Allora Vediamo un pochino Ora ci penso io a fare un buon lavoro Dato che qua Fermi l'elino Bello Carino raga Non facciamolo cadere No dai 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 Bisogna farlo venire da questa parte Ok Facciamo così E facciamo così Ok Marci Tieni Vieni qua Vieni qua Vieni qua Quando ti capita legna Quando ti capita pietra Quando ti capita dirt Perfetto Così almeno puoi andare un po' più veloce Abbiamo semini? Eh eh C'è tutto quello di No No Semini proprio normali Per il pollo Pumkin no Non abbiamo i sensi normali Io ho un po' di mele Ok Perché io ho due uova Quindi potrei riuscire a fare i vari Il secondo pollo Sì eccolo Secondo pollo Bellissimo Eh Questa è fortuna Su due uova e fortuna Sua ciata proprio Super fortuna Però non avendo semini È una fortuna No raga raga sta correndo troppo No tranquilla Non si punta No ma non cadono Non cadono Se li spingi tu cadono Ma altrimenti sono Eh mi fanno un po' paura Così io la mucca ho messo Tre fan spuntate dietro Poi ci hai trovato coal No coal mai Sto scavando come Pecora Ho finito la shovel Considera Aiuto quel pollo Ok Ma pensate una cosa Sì Ma essendo che adesso Arriva notte Sì Che magari arriva qualcuno A disturbarci O queste cose qua Spero di no Perché altrimenti Siamo nei guai Potrebbe Potrebbe Chi lo sa Però spero di no Perché non abbiamo Nienche modo di fare una fornace Perché non abbiamo Nienche cobblestone No non abbiamo una ceppa È vero È un problema Cioè non possiamo proprio far nulla Nella nostra vita È una roba terribile È l'unica cosa Che posso fare È continuare a rispanderci Sotto non si forma nulla Ma guarda Sotto c'è proprio nulla Stai spiegando la legna C'è proprio nulla Cosa Fere? La legna Eh Dammi Perché? Perché così iniziamo A costruire anche Dei recinti per gli animali Ma lasciali stare In giro Fere Vabbè Quando cadranno tutti Poi piangerai Fere non cade nessuno qui Lo dici tu Eh sì lo dico io Sono tutti i nostri amici Non cadono Ci vogliono bene Ma perché ci sta sta clay Ma non lo so Non ho capito Perché ce ne dà così tanta Cosa ce ne dovremmo fare Non si sa bene Non lo so neanche io Cioè dacci la cobblestone Perché io sono piena La clay potete fare i blocchi poi Eh Per fare Eh boh Per allargarsi E basta Eh appunto Ma quello Cioè già ci riusciamo a priori Qui ci serve cobblestone Ma anche tanta cobblestone Mannaggia Allora Io comunque clay Ne ho creata altre Abbiamo 26 blocchi di clay Anche io ho fatto blocchi Eh boh Se volete facciamo una casa di clay Giusto per dire Eh potrebbe Ma quanto buio c'è adesso Oh si vede rulla Mannaggia Oh Ok È un'ottima sfida questa Mi piace Mi piace Ma cosa c'è di bello Ma che ottima sfida Oh io sto scavando È marci che fa minatore E noi che giriamo in tondo così Ha fatto 181 blocchi in questo momento Esatto Un pollo Io non so quanti ne ho Perché sono sopra la mia testa Ma Fereni a 5 E Marchi ne ha 0 Esatto Ma come 0 Come 0 Che bravi Forse perché ti ha resettato Quando sei morto Può essere Può essere In effetti ha senso Animali piccoli amici Potete levarvi Sì beh è l'unico punto In cui non dovrebbero stare Però mi sembra che Marci Io li potrei spostare Ma ho paura che cazzo Secondo me Marci porta un po' di sfiga ragazzi C'è un pollo Sì 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 ragazzi Siamo pieni di polli Continuano a apparire Secondo me siamo vicini però Alla cobblestone Perché secondo me 200 blocchi Come volete provare voi Va Secondo me Sì è un'unica spiegazione Venite Venite qua Comunque pieno di polli Aia Meno male che l'hanno ignorata Comunque lo sapete Che ci hanno fatto notare Un sacco di cose interessanti Ma non sono interessanti Nelle storie di Instagram Adesso ve le dirò Nulla con questo video Vabbè ma qui Allora non stiamo facendo niente E almeno passiamo il tempo A chiacchierare No no la migliore Non sai qual è Marci Tipoc Esatto Tipoc E poi Ciù players Che se tu li unisci Forma Opla Ciù con la O Capito E poi Pla di player Quindi un Opla E alla fine raga Questa è una magia oscura E poi c'è Opla al contrario Era tutto scritto E poi Opla al contrario E al po' Raga Era tutto scritto Nei nostri destini E nelle nostre vite E solo adesso Ci siamo resi conto Qual è il nostro obiettivo Di vita Ovvero Arginare il po' Perché tutto riporta A quello ragazzi Fine quarantena Andiamo Esatto E quindi volevo Rendere tutti i partecipi Di queste teorie Anche il pubblico Ovviamente Mi piace Era molto importante Non è importante Dobbiamo pensare a sopravvivere E non abbiamo nulla per farlo Ma tanto il blocco magico Lo può fare solo uno di noi Perché non ti puoi mettere lì in 50 Quindi nel frattempo Tu non stai a fare nulla Almeno mi rimetto a raccontare storielle Ho capito A me sto venuto a piangere Tieni di Woystaff Sono altri 4 blocchi Sto facendo una bella casetta Bravo bravo Ok Ma non devi far spawnare mob buoni o cattivi Io voglio la cobblestone Ma guarda Per favore Ma anche un po' di bombial Per far crescere almeno un albero Sai per vedere qualcosa Gli animali hanno tutti apprezzato la tua casa Ho notato È piaciuto un po' In realtà la casa era per me Non era per loro Però Vabbè hanno apprezzato Sono contenti così Che devi dire Ma è la clay che attira Stef Non me la sento di criticarli Poveri animali Nessuna novità Acqua 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 Infatti si chiamava Benevolent Gift Io non mi esprimio È solo una? Sì è solo una Ma io questa allora la terrei per fare cobblestone generator raga Però secondo me ci siamo raga La metto nella cesta 10, 9, 8 Aspetta cos'è questo timer? Sposta ci sposta ci sposta Upgrading Si sta upgradando Ma cosa si sta migliorando? Ma è stranissima Aspetta Eccola Eccola Abbiamo raggiunto la fase 2 Ecco Mark Le fasi che diceva all'inizio Che ce ne sono 10 Sono queste Raga perché sta parlando di monster? Perché arriveranno anche i mostri ragazzi Mi sa che da ora in poi spawnano anche i mob? No Non lo so può essere Sì 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 C'è scritto così Aia E dove? Perché è tutto buio comunque Tecnicamente sull'isola Eh non lo so Non lo so Però quando ti giri Pacca te Io occupo questo angolo Allora inizia a darmi tutto Che così crafto Che facciamo un po' di luce qua Fai magari anche delle spade Perché se c'è la possibilità Che possono arrivare di mostri Secondo me è meglio iniziare a difenderci Fere sei molto sad Ne farei solo una No era una festeria La bc di minecraft Allora no no Altro cuore E pura saggezza Lanciami qua all'adosso Sì Dove sei? Eccoti qua Aspetta no Bisogna fare così Crafto immediatamente altre torce Ok Stavo per dire un bel Opla Opla E Fere se ne va Fere ha fatto opla Arrivederci a tutti Ciao Fere Ciao ragazzi Ciao Fere Come ha fatto a crashare Devo essere sincera Sto chiederlo a Mestaf È crashato il gioco E via Appena ho messo la luce Fere se ne è andata Io non l'ho neanche vista la luce Non l'ho neanche vista Fere è un vampiro E non ce l'ha mai detto Quella è una bella notizia Allora Tieni Te li butto a terra Grazie mille Eccomi Buon torno Ciao ragazzi Da quanto tempo Oh Raga ma questa è diventata La casa degli animali Ma dai Ma io volevo farmi una casetta Aspetta che ti porto un altro pollo Aspetta eh È un party questo Vai Forza Allora Vediamo di fare anche una bella fornace Io c'ho il ferro Ok Ottimo Perfetto Allora la fornace la piazziamo qui Eh no la piazziamo in casa Nella casa degli animali Ok Poi magari mettiamo a cuocere un po' di Comunque è per quello Steph Che dobbiamo fare dei recinti Perché così gli animali non stanno in mezzo ai piedi Beh fare è a sapere che sei benvenuti tutti da me Mark Vero Mark Sì A parte che 23 blocchi rotti Bravo Steph Quindi Mi partiamo già male Tu devi fare 17 se non posso no Eh no Non li farò mai Oh raga 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 La mushroom Bello Questa qua ragazzi Abbiamo la coppettina quella per fare le zuppe Possiamo mangiare l'infinito Sì ma io non ho fame Non so voi No neanche io sto bene Però è buona sapersi alla fine No sì sì Non si buttano per assolutamente Però noi servirebbe della lava Diciamocelo Che sarebbe veramente utile Secondo me sei un po' troppo pretenzioso Steph Infatti Può essere Però questo blocco infinito è magico Quindi che faccia delle belle magie Ma quindi Marci mi sa che Oh Marci occhio Eh Questa cosa era Non era preventivata Senti vai giù tu Eh Ma no Secondo me serviva No vabbè Le zombie no Quando ti capita lo scheletro Secondo me sì Allora Quindi ho capito che Devo fare davvero le spalle Io pensavo Tutto molto più tranquillo Qua nella nostra vita Lavora Steph Veloce Penso io Inizia a star calmo eh Eh forza Marco fai qualcosa Allarga l'isola Non lo so Renditi utile Non posso svercarmi Fai dei ponti Non lo so I ponti I ponti I ponti I ponti Secondo me dobbiamo finire una casetta nostra Allora una spada Prendo io Un'altra spada Allora questa di Steph Ormai è diventata la casetta degli animali Quindi magari da questa parte Quella d'arte Quello che vuoi Guarda quello che abbiamo Ma era carina la casetta in clay No 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 Occhio Aspetta Ok fatto 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 Ho cercato di non buttarlo giù appunto per le stringhe Brava Ok fatto benissimo Aspetta Marci Ma quanto ferro hai? Eh Undici pezzi Deposita tutto nella cesta Ogni tot Perché Ti ho lasciato anche una spada lì Vabbè te la metto dentro la cesta Perché ho pensato Potrei fare le cesoie Iniziare a prendere la lana dalla pecora Per arrivare a fare i riletti Per poter vivere una vita migliore Sono d'accordo Bella questa Bravo Bell'idea Grazie Però abbiamo una pecorella Sì Lo so E ha bisogno poi di mangiare con la grass Che non abbiamo Uova Niente pollo Quanti dettagli stai dicendo però eh Cioè la vita è fatta anche di un po' viva la vita Però aspetta Penso che l'abbia ottenuta Marci la grass Allora La grass o mai Vuoi ampliare di più? Vabbè Facciamo una casa decente no? La grass o mai Sì va bene va bene Però Però Blocca anche gli animali dal venir qua Ti prego Eh ma come faccio? No 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 Porca miseria ragazzi Però che cattiveria un creeper che spona da lì eh Ma io non ho detto bisogna fare i recinti Il blocco invincibile è sopravvissuto? Sì ovviamente Sì puoi dirlo Guarda eh Guarda eh Hai ragione Mark È proprio guarda eh Io ti sono rimasto troppo male No vabbè ma è una cattività inaudita Io ho visto proprio la scena era terribile Allora Mark tu sei il buttafuori degli animali Non devono entrare in questa zona Fuori Fuori Non abbiamo quei tanta di legna Perché non è mai spawnato un albero No ma ve l'ho messo io 17 best Steff Steff è magico Non abbiamo così tanto di legna Giratevi verso la casa No vabbè l'ho rubata Certo Ma per un buon motivo Bravo Beh scusate Non volete anche voi una bella casa? Sì 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 ma non con la legna sprecata Marci? Hai andato a fare un giro Tranquilla tranquilla Ferre Non esiste nulla Torna però eh Eccolo qui Sì sì no 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 Avevi roba? No l'avevo appena lasciato nella chest Per fortuna Meno male Che paura Ti ma il problema Non so se avete capito Che è successo No No Cioè da solo Mi ha spostato un blocco in avanti E stavo continuando a scavare E sono caduto Sì sì ti ho visto Molto bene Ma non ho più blocchi sopra Quindi adesso Allora Però di me non c'è più 200 Quello che è 400 No ci l'hai Ci l'hai 412 Ok meno male Meno male Ci mancava solo Guarda Lui vuole il contesto dei blocchi Vuole la achievement ovviamente Il mio obiettivo arriverà a mille O uno più largo No va bene così Dai già che non abbiamo legna Non esagerare Ok Ho finto la legna Ecco Allora Il signor butta fuori Non sta facendo bene il suo lavoro È di bagli animali Che sono insopportabili Sono Questo qui guarda E adesso Do fuoco A questo qui Ma perché Calma Non crescono gli alberi Secondo voi Perché Non Ci abbiamo Il bone Mille Queste cose qua belle Ok Non lo so Zombie Non ne ho idea Non so quali sia il motivo Ma anche io Ok Allora Mi ero dimenticato di craftare le cesoie Alla fine Tra una cosa e l'altra Forse è troppo poco spazio Steph Qui comunque Gli abbiamo messo anche la legna attorno Quindi magari non cresce per quel motivo Potrebbe Oh però mi sembra un po' viziata Come cosa Dunque Piantiamo altri alberelli Da altre parti E vediamo se le cose vanno meglio Non lo so Anche secondo me Magari non si può Far sì che spolino qua vicino Boh Allora abbiamo della terra Che magari è meglio mettere della terra attorno Io ne ho quattro pezzi Te li metto nella cesta Sì Te ne butto anche quattro nella cesta Quindi ce ne sono otto Giusto per levare questi che ha attorno Capito Abbiamo questo tipo di legna Ma non abbiamo più berce Mannaggia Perché infatti Ovviamente il blocco è diventato di cobblestone Perché sa Che noi ormai la legna La otteniamo dagli alberelli Ma questi alberelli No no ma la cobblestone esce La cobblestone Cioè la legna esce pure Ma dai Ero in shift però Perché sono caduta Eh non lo so Vabbè Hai perso tutto Sì Mi dispiace È stato molto brutto Con questa la Marci Non che avessi chissà che cosa Marci quante lines hai? Non mi vuoi string Lines String Io ho una Ah Speriamo molto meglio Perché in questo momento Vi volevo annunciare questa cosa Siamo a tre blocchi di lana Ok Non è vero Ok Not bad Quasi Due blocchi e mezzo Due blocchi e mezzo Ok Raga ma muore sto zombie Ok È più solo a Rottenflash? Sì Ok Però mi sembrava di aver visto anche una patata Invece no Ah andrata un'ultima up A voi stacene del cibo? No A me è di poco Veramente poco A me sì Tre blocchiotti mi mancano Grazie Sono le mele nella cesta Beh abbiamo anche un sacco di anguria che c'è dato prima Siamo Siamo pieni di soldi Fate i semi con quello Oh la birch Ma ci prema che non abbiamo Scusate Non abbiamo Sono preso una doppia spadata Che mi ha fatto proprio male anche nella vita reale Non abbiamo la lava e quindi sprecare l'acqua è una brutta idea Esatto E questo è il nostro problema Ragazzi vi lascio un po' di legno nella chest che può sempre servirvi Eh ma berce? Beh ma continua la casa con quello che hai Dai Non cresce qui la roba Ma cioè dobbiamo rovinare casa? Sì Tanto non cresce Ma è l'unica cosa che abbiamo Ma stai abbiamo 18 blocchi non trasformati di oak Quindi teniti quello No hai ragione Eh lo so che hai ragione E però Però se non cresce la legna usa quello che hai Ma un po' di sand signor Marci? Sand? No sabbia zero Zero proprio Quindi nessun vetro per noi Capisco Questo blocco magico è un po' poco magico comunque Cioè Fa un po' quello che gli pare Dovrebbe migliorare un attimino sulla magia Perché secondo me qua non è che Ok che abbiamo un ottimo minatore Ma non può rimanere a vita Ok Ma ecce la smarci scusami Ah possiamo fare una doppia ragazzi Perché tanto qua c'è Sì beh ma ne abbiamo un'infinità immagino di ceste Io ne ho altre tre più una Cioè siamo veramente pieni Infatti ne piazzo magari una qua Per far finta che casa nostra sia arredata Wow Meglio dell'IKEA È incredibile Guarda ti metto anche una zucca per stupirti Io c'ho un amico spider Orribile Orribile Wow Incredibile Stef Allora lo spider ci serve Sto prendendo a pugni Evita di chilarlo Sai cosa c'hanno detto Stefano? Farlo cadere Esatto Che io e te abbiamo un vizio Ok Cioè parliamo in italiano ma tutta la roba di Minecraft la dicevo in inglese Cioè tipo lo spider Il pig Siete molto linguaggizzati Vabbè scusami String come si dice in italiano? String È in inglese String è in italiano Corda Eh ma ragazzi io lo faccio in tutti i videogiochi Anche in Fortnite I termini li dico tutti in inglese Ma perché è normale ho tutti i giochi in inglese Ragazzi c'è su Fortnite c'è una zona che si chiama sabbie sudate Cioè come puoi Non puoi utilizzare l'italiano Come puoi dire l'italiano È oltraggioso Va bene Cioè poi chi traduce quel gioco si dovrebbe vergognare Ma è abitudine perché io da sempre tengo i giochi in inglese E quindi tutti i termini dei videogiochi in me vengono per forza in inglese Abbiamo delle bellissime piume Wow Siamo pieni di Cioè siamo pieni di oggetti inutili Sto blocco magico davvero è un po' Un po' una tristezza incredibile Blocco magico Faccia qualcosa di utile Ma quanti blocchi sono ragazzi? Sì a sì No i polli Due polli su tre ragazzi Quello sta volando Devo dire che è andata bene però eh Ragazzi Faccio una cosa per il po' Vado a prenderlo Povero Quello sta ancora volando Non è sponato Sta planando il pollo Uno è morto Dai che rottura di scatoli creeper Ma non ha senso che arrivino così Cioè è terribile È impossibile sopravvivere Ti compare addosso Non ce la puoi fare Esatto Io comunque dicevo Quanti blocchi sono ragazzi? Sono quasi 600 Secondo me è 1000 la prossima Eeeh Se vado a dormire in casa allora Mannaggia Amici non lo so Non lo so Vado a giocare GTA 6 Deve essere più gentile la mappa Che cavolo Sto blocco magico Ha rotto già le scatole Io ve lo dico Deffo guarda che cos'ho Boom meal Boom meal E tu Perché continua a lanciare le cose in quel blocco? Allora le metto nella cesta Ok Boom meal e boom meal Boom meal e boom meal Ma non ti ho dato anche ghiaccio Scusami Upgrading Sì anche ghiaccio Uh ragazzi Prossimo miglioramento Dai 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 Qualcosa di bello eh Allora ne mettiamo Speriamo nella lava ragazzi Anche 20 secondi Beh per mettere un po' di suspense Dai dai qui ci siamo Spero anch'io nella lava comunque Speriamo bene Dai 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 Ok Che tristezza Mi aspettavo una cassa Comunque ragazzi Fase 3 Il bioma della neve Snow biome è vero Bello E vuol dire Ok Che praticamente l'isola Dovrebbe essere ricoperta dal ghiaccio Infatti ci dà la legna Che si trova in quel biome Bello Ok Raga fatevi la neve Con le palle Allora Io provo A vedere se almeno con la boom meal Gli alberi crescono Uno Oh Oh Finalmente Porca miseria Guarda che bello Oh Possiamo finire la casa Esatto E quella è la buona notizia Mannaggia Felice Sì sono felicissimo Raga comunque io direi Che ci fermiamo così Per il primo video Penso sarà una mini mini serietta Tipo 2-3 episodi Cioè non so quanto dura la mappa Comunque ha un finale Quindi La faremo fino alla fine Speriamo che questo primo episodio Vi sia piaciuto Secondo me la mappa è veramente bella Il blocco magico Veramente speciale Un po' lungo Però speciale Un po' lungo Speriamo non arrivi No No Chi Il lupo Wow Si è mangiato la peccora Steph Con quale cattiva L'ho visto in diretta Anche io È stato terribile ragazzi Io non lo faccio più La mini serietta Dio raga No non la faccio più Dai ma la peccora Ci si arriva a dormire Troppo crudele questa roba Non era per famiglia ragazzi Questo attacco Infatti Non possiamo far vedere Queste cose Dicevo comunque Ci fermiamo così Ho sbagliato blocchi da piazzare Vabbè Sono proprio un campioncino Continueremo appunto Questa mini serietta Speriamo che il primo episodio Vi sia piaciuto Sotto a guardare altri video Iscrivete al canale C'è ciao Ciao